Buongiorno a tutti, mi chiamo Francesco Del Maro, sono l'amministratore unico di Music Experience, una società che ho con sede a Roma, nonché l'amministratore di Mela Inc, che è una società con sede a Los Angeles negli Stati Uniti. Grazie per avermi invitato, parleremo brevemente, poi mi piacerebbe comunque aprire un dialogo sia con chi è qui che con il pubblico a casa sull'organizzazione a 360 gradi di uno spettacolo dal vivo. Siamo probabilmente nel periodo in cui si concentra quasi il 60% in due mesi del fatturato che in Italia viene generato dai concerti, quindi sicuramente è il periodo migliore per parlarne. Ovviamente la pianificazione e l'organizzazione di un concerto dal vivo, ed è uno dei primi step obbligatori, parte molto molto prima. in Italia per una serie di motivazioni culturali, ideologiche e politiche, visto che ahimè o per fortuna o per purtroppo siamo molto legati alla politica, c'è questo errore di fare sempre le cose all'ultimo secondo. In tutto il mondo i festival e soprattutto i concerti, i tournée degli artisti più o meno importanti, vengono pianificati quasi almeno con un anno d'anticipo, se non oltre. Magari questo potrebbe essere un primo indirizzo nel cambiare e migliorare le cose. Niente, se vogliamo cominciare questo dibattito con un po' di domande... Sì, qui c'è il signor Conner, che fa parte di una band pugliese, solitamente la domanda che noi facciamo a chi viene ospite, da noi è quello di capire o far capire ai ragazzi che suonano, come potrebbero incrementare o uscire da un uscio, che è quello regionale? Ma fondamentalmente in una situazione molto molto complessa, oggi per assurdo gli artisti pugliesi vivono comunque in un contesto particolare, in un contesto assolutamente dinamico. La regione Puglia, prima di ogni altro, probabilmente caso unico in Italia, ha capito che ha senso investire sulla cultura, non perché il buon presidente Vendolo o chi per lui siano appassionati di musica, ma perché la musica è un veicolo di promozione fenomenale. Un po' richiamano questa azione politica, richiama un po' l'azione fatta negli anni 90 in Francia, dove appunto ci sono stati investimenti molto importanti per quanto riguarda la Francia sulla musica nazionale francese. Tant'è che eravamo arrivati a un punto, e ti dico non so se è ancora in voga o meno dove c'è una legge che costringe e obbliga le radio private a trasmettere almeno il 50% di musica nazionale. Questo potrebbe essere una soluzione. Come suonare, come incrementare è molto difficile, soprattutto se parti da zero. Soprattutto oggi, dove i budget sono estremamente stretti e nella maggior parte dei casi non c'è più neanche il supporto delle case discografiche. Una volta le discografiche investivano dei soldi per far suonare i propri artisti perché suonare era un veicolo per vendere i dischi. Oggi il processo si è completamente invertito, i dischi non esistono più, quindi il business vero è diventato suonare. Quindi per un artista che si affaccia è veramente complicato perché è molto complesso, è molto difficile che qualcuno investa soldi su un artista sconosciuto. Piuttosto io investo i miei soldi, io no, ma diciamo le grosse multinazionali investono i soldi su un artista che gli può dare un riscontro immediato in termini di guadagni. È chiaro, investire su un artista giovane significa investire probabilmente in perdita per un periodo che può anche arrivare a 5 anni e poi sperare in qualcosa. Quindi è assolutamente complicato. Quali possono essere degli strumenti? Per parlare di quello che facciamo, uno degli strumenti che noi utilizziamo per dare una mano e un supporto alle band emergenti, non solo pugliesi ma italiane, noi ogni anno facciamo un contest dove cerchiamo noi di trovare le risorse economiche per garantire una vetrina, una visibilità ai gruppi emergenti, gruppi emergenti che in una sorta di battle of the band combattono tra loro sui social network e chi vince viene con noi negli Stati Uniti e suona insieme a alcuni dei gruppi più grandi che abbiamo portato in giro per il mondo, da Subsonica, Negrita, Elisa, tantissimi altri. Sono quattro anni ormai che questo contest va avanti e abbiamo portato artisti, non so se per fortuna nostra o se grazie a noi non ho questa pretesa, però artisti che comunque cominciano a sentirsi in giro dai Serpenti piuttosto che una, l'altro anno abbiamo portato un gruppo anche si chiama Follow the Mad, Thank You for the Drum Machine, tutti i gruppi che hanno capitalizzato la visibilità, perché il problema è quello, il problema è farti vedere, farti conoscere. Quindi loro sono riusciti a capitalizzare la visibilità e a mettere in modo un meccanismo più o meno virtuoso di lavoro, cioè l'obiettivo è fare in modo che la musica diventi una professione. Io ho 42 anni e quando ce ne avevo 20 andavo in giro mi dicevano che lavoro fai, lavoro nella musica, sì e poi mi dico no, ovviamente io vorrei vedere quello. Quindi quella è la cosa più difficile anche dal punto di vista sociale, soprattutto in Italia, in Italia non lo so perché non si è percepiti molto bene quando uno dice no, voglio fare l'artista, ma non è solo questione dell'artista, anche dal punto di vista del business, ci sono tantissime professioni oltre al musicista, quindi secondo me anche culturalmente far passare un messaggio che la musica è un lavoro è una cosa molto importante. Quindi tornando a quello dicevo prima, questi gruppi che più o meno grazie a noi sono riusciti ad avere un po' più di visibilità hanno instaurato un rapporto, un volano positivo. Ho sentito per esempio la settimana scorsa i Serpenti che erano appena tornati da un tour in Cina, quindi questo è importante. Ecco, diciamo l'unico consiglio e l'unico segreto è ormai la dimensione è globale, cioè non esiste più, no io faccio musicista in Italia, voglio suonare in Italia, tu devi fare musicista e devi suonare in tutto il mondo, perché il mercato ormai è il mondo, quindi non è neanche una questione di lingua perché quando noi portiamo gli artisti all'estero ci dicono ah ma devo cantare in inglese, devo cantare in italiano, io dico devi cantare nel modo in cui ti senti più confidente, cioè nel modo in cui ti senti meglio. Se vuoi cantare in inglese devi avere una pronuncia perfetta perché altrimenti diventa tipo Alberto Sordi, quindi è fondamentale mantenere la propria identità, intanto quello che piace alla fine è il messaggio anche della musica. Un esempio che mi piace raccontare sempre, due o tre anni fa noi abbiamo portato un'altra artista, poi tutto non è a caso, pugliese negli Stati Uniti, Eric Camus, che canta in italiano e ha fatto un concerto a Los Angeles prima di Nicola Conte, alla fine del concerto due signore di colore che non parlano una parola di italiano si avvicinano in lacrime a lei e ha detto ah ci ha emozionato tantissimo. Allora e quello secondo me è qualcosa di unico, nonostante che lei cantasse in italiano, quindi non era il problema. Io non credo a chi dice no, la lingua è un ostacolo, assolutamente. Facendo un caso inverso, io seguo un gruppo purtroppo, nel senso lo ascolto per passione, i Rammstein cantano tedesco, eppure è un gruppo che adesso suonerà mi pare a Roma a fine luglio davanti a 25 mila persone, quindi la lingua non è l'ostacolo. È importante, ripeto, che chi decide di fare questo percorso deve rendersi conto immediatamente che la dimensione è una dimensione senza frontiere. Ahimè la globalizzazione esiste proprio nella musica, nel senso c'è un messaggio e c'è un territorio fatto anche di opportunità, perché alla fine le terre di conquista sono tante. Io per quanto mi riguarda nel mio estremamente piccolo sto riuscendo a portare tanti artisti italiani in giro per il mondo. Siamo tornati due settimane fa dal Brasile, siamo andati in Cina, negli Stati a Dubai, quindi cerchiamo di cavalcare il fatto che c'è molto interesse e curiosità sull'italianità in genere. Noi stando qui non lo percepiamo l'estremo interesse che c'è nei confronti del Made in Italy, che non è solo la moda, la cucina, il vino, ma è anche la cultura. Sarebbe opportuno, e probabilmente il ministro dei beni culturali che c'è ora è abbastanza sensibile a questo tema, investire, non è investire, non significa solo come soldi, ma come approccio culturale. Io quando un paio di anni fa ho sentito l'ex ministro Tremonti dire che con la cultura non si mangia, questo è un messaggio completamente sbagliato, con la cultura si deve mangiare. E anzi, dubitate sempre di chi vi dice no, io mi occupo di cultura per passione. Se la vuoi fare bene ci devi guadagnare, perché è un lavoro, giusto come chi crea un'opera dell'ingegno è giusto che sia valorizzata, è la stessa cosa. Quindi chi dice che non ci guadagna da qualche parte è meno trasparente, secondo me è molto più corretto dire no, io ci voglio guadagnare. E' chiaro, poi c'è sempre una via di mezzo nel fare le cose. E' importante, ripeto, mettersi continuamente in gioco, entrare nell'ottica del mercato globale, entrare nell'ottica soprattutto di un gruppo esordiente che di essere anche disponibile a suonare ovunque, ma pure davanti a una persona. Cioè, oggi una persona domani sono... noi, ripeto, portando gruppi italiani anche grossi all'estero, ma noi siamo andati a portare, per esempio, sei anni fa in Ingrid a Los Angeles, che erano sconosciuti, e la prima volta non sono andati 200 persone, la seconda volta, l'anno dopo sono tornate e ce ne erano mille. Ecco, quindi questo è, diciamo, il messaggio che ha senso portare avanti. E la fortuna per un gruppo esordiente all'estero italiano che viaggia alla pari di Negramaro è uguale, perché Negramaro sono sconosciuti come è sconosciuto, come si chiama l'altro gruppo? Cambio di rotta, uguale, è stata la pari, quindi pensa che fortuna che c'hai. Cioè, questo è importante, è un'opportunità grossa. Tu ovviamente adesso hai un musicista che è un appassionato di musica che sta seguendo tutti i nostri corsi, e parlavamo l'ultima volta del fatto del... magari dieci anni fa ci fosse stata la possibilità di appunto avere questi incontri, cioè tu stai rivedendo qualcuno del fenomeno Puglia, e il discorso che si sta appunto ampliando sul campo musica, cioè questo investimento, cioè non solo economico, ma anche energia, no? Assolutamente. Ti voglio dire, appunto, cioè parlando con un musicista e con un... Un appassionato. Un appassionato è comunque che io... è un musicista però non... diciamo, non mi esibisco. Ah, beh, no. Cioè, loro, perché io mi piace sempre appunto, tu, vabbè, sei un organizzatore top, portate a musica in America, in Cina, però secondo te, appunto, partendo dalle basi e agganciando il discorso della politica, come si può un appassionato musicista andare a scardinare a determinati concetti per appunto portare anche nel tuo piccolo paesino una cultura musicale, live... Nel senso, nella tua domanda c'è la risposta, a mio avviso, perché è appunto un problema di approccio culturale. Cioè, se l'Italia e gli italiani in generale entrassero già nella mentalità che la musica può essere una professione e un lavoro, quindi con un approccio serio, questo cambierebbe completamente il punto di vista, no? Cioè, se tu vai negli Stati Uniti, ci sono, come ne so, mi viene in mente il Musician Institute, il Berkeley College of Music, ci sono delle vere e proprie, tra i miei diretti, università della musica. La musica è una materia insegnata non come da noi nelle scuole elementari medie, colpifero, il flauto, scusate, io ogni tanto con il flauto, ma viene insegnata, cioè, si fa amare la musica ai bambini, no? Perché quello è il primo step. Cioè, io quando andavo a scuola elementari, passavo le giornate o a fare il sorfeggio o appunto con il flauto, ma non è quello, cioè, può essere anche quello. Ma allora, secondo me, e questo gli educatori, proprio dal punto di vista politico, incominciamo magari a portare i bambini, sarebbe una cosa bellissima, e all'estero succede, a vedere i concerti. Magari si trovano delle forme dove fai i concerti magari la domenica e il pomeriggio. Qualcuno, però, secondo me, ancora in maniera troppo isolata, lo sta facendo. Mi viene in mente, per esempio, a Roma l'auditore è un parco della musica, fa dei concerti di musica classica per i bambini. Però, secondo me, questo approccio è questo. Io, nel mio piccolo privato, ho una bambina di 5 anni, e io l'ho fatta appassionare fondamentalmente perché la porto a vedere. Poi sarà lei a dire, oh, mi interessa o non mi interessa. Però se tu comunque non fai vedere gli strumenti che hai a disposizione, ripeto, il fatto di vedere un concerto, il fatto di vedere degli strumenti. E' anche un po' stimolare. Purtroppo, questo poi entriamo un po' in un discorso che rischia di essere retorico, i modelli culturali a cui siamo esposti non sono al massimo. Sono, tra virgolette, in inglese si dice modelli one-way, c'è la televisione che mi vomita 24 ore, 24 contenuti e io sto lì. Fortunatamente che c'è a meno di 20 anni incomincia a ribaltare questo modello, incomincia a dire a me non mi interessa più. Ci sono modelli che danno molta più interazione. Però, anche tutto, poi vabbè, entriamo in un discorso che è stato fatto un milione di volte, il discorso di talent, e tutta quella roba lì. A mio avviso è un discorso che se non viene in qualche modo riportato nell'ottica del partire da zero, dalla cantina, di queste cose qui, andrà a finire. Perché ci sono fenomeni, magari molto grandi, che però si sgonfiano in maniera molto veloce. D'altra parte, loro rispondono anche alle esigenze del mercato. Il mercato ha bisogno di... Alla fine, purtroppo, spesso la musica è come se fosse un detersivo. Quindi la dobbiamo vendere subito e velocemente. E poi non mi interessa. Dovremmo riportare un po' il modello da un'altra parte e portare il modello dove viene data la possibilità agli appassionati. Perché io, per esempio, prima di tutto, al di là che ho la fortuna di lavorare in questo mondo, io sono appassionato. Ogni appassionato dovrebbe avere la possibilità di dire, lo sai che ti dico? Io voglio che questa passione diventi il mio lavoro. è veramente molto complicata. Ma a partire dal contesto familiare. Io quando ero piccolo mi devo scontrare a casa mia. Ma che fai? Ma che sei matto? Ma va a lavorare? Piano piano, 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 fino a quando poi i miei genitori... Ah, però, può essere un lavoro pure questo. Quindi, secondo me, è un problema... Forse ci vorranno due o tre mila anni per... No, no. Da parte i scherzi. Ci vuole tempo. Però bisogna iniziare. Io, al di là, appunto, casi sporadici. Vedi, appunto, la Puglia e qualcuno che cerchia di copiarla anche malamente... La vedo... Non è un... Non c'è un interesse culturale, tra virgolette, supremo su questa roba, no? Anche come linea dei governi... Vi faccio un esempio. Tra i vari tagli che adesso questo governo si appresta a continuare nel continuare a fare... Ce n'è uno che, secondo me, è folle. Viene tagliata... Viene praticamente cancellata l'IVA agevolata del 4% dei prodotti musicali venduti in edicola. Ma voi vi rendete conto che ormai il supporto fisico, se viene venduto, viene venduto solo nelle edicole. Perché c'è un vantaggio di prezzo anche, no? Perché, appunto, è in abbinamento a un prodotto editoriale. Quindi, da prodotto editoriale viene riconosciuta l'IVA agevolata. Se viene riportata al 21%, piuttosto che al 22%, visto che l'IVA andrà ad aumentare, di fatto è la morte proprio di un settore. Perché, cioè, anche io magari voglio comprarmi, tra virgolette, boh, Miles Davis, non lo trovo più perché non esistono più i negozi, nelle edicole comunque c'è materiale. Questo ucciderà completamente il mercato. Sì, digitale, benissimo. Io sono veramente un entusiasta, però non può bastare quello. Cioè, non può bastare a colmare un mercato che non esiste più. Quindi, boh, sono tanti fattori che, secondo me, meriterebbero un'osservazione un po' più attenta dal punto di vista politico. Ma indipendente di te, chiaramente. Qui non è sinistra, destra, cioè, deve essere un interesse comune sopra partes, insomma, al di là delle parti. Noi abbiamo già parlato, però mi piace molto la storia. Com'è che nasce ITWICK? Perché è col tutto? Ma, ITWICK nasce dalla mia frustrazione personale. E cos'è ITWICK? Allora, ITWICK fondamentalmente oggi è portare la musica italiana in tutto il mondo. come nasce e perché? Nasce dalla mia frustrazione personale. Io sono frustrato. Nasce dalla mia frustrazione personale che, andando in giro per il mondo, mi sentivo sempre dire, ah, l'Italia, la pizza, il mandolino, i bocelli, i pavarotti. E io sì, però c'è pure altro. E una volta, per caso, ormai, boh, otto anni fa, mi capitò una chiacchiera molto interessante con il programmatore artistico della più importante radio musicale che c'è in California, che si chiama Kaysir W, che tra l'altro potete ascoltare in streaming, è una radio veramente bella, e fa tutta World Music. Abbiamo iniziato a parlare della musica italiana, lui mi ha detto, ah, musica italiana, come no, io conosco Mina, Battisti, ma dico sì, ma ci sono trent'anni in più, c'è altra roba, no, ma io non conosco niente. E mi ricordo che avevo lì per lì un iPod, un iPad, no, l'iPod, perché iPod, iPad, iPhone, e poi ho detto, sentiti questa, e c'avevo per casualmente Roy Paci a Retusca, Toda gioia, Toda bellezza, dove c'era dentro Manu Ciao, e lui non sapeva neanche l'esistenza di questa roba, rimase così, ma è possibile questa roba italiana? E mi disse una cosa che anche lì mi era brividì, ma mi apriva una finestra, mi diceva, sai, io ricevo in maniera sistematica dai governi dei paesi la loro musica, c'è l'Inghilterra, c'è un ufficio, si occupa di mandare tutta la musica che esce, la Francia, c'è un ufficio, io dall'Italia non ricevo niente, zero, non so niente, mi informo perché io sono curioso e attento, e lui ha detto, scusa ma ti aiuto io, mi piacerebbe far affacciare degli artisti italiani su una vetrina che sia al di fuori del loro territorio, soprattutto artisti italiani non legati allo stereotipo dell'italianità, e lui mi disse se lo fa io ti aiuto, e veramente questo, solo negli Stati Uniti accadono queste cose, io decisi di fare questa cosa folle, perché fondamentalmente era come voler vendere il ghiaccio agli eschimesi, vuoi portare la musica in America, e sei matto, e in Italia all'inizio quindi anche questo è un invito a non fermarsi, in Italia tutte le istituzioni, se non si mettevano contro, quasi dicevano, ma questo è matto, questo è matto proprio, io invece diciamo, non mollavo il colpo, capitalizzando i rapporti che comunque mi ero costituito negli anni, con un sacco di artisti, con le discografiche, ho deciso di andare avanti, e la cosa assurda è che invece gli Stati Uniti si resero estremamente disponibili, vi faccio un esempio, mi venne riconosciuto immediatamente un visto lavorativo, perché è bella questa cosa, e poi soprattutto è una cosa che, lì, l'ottica abbastanza cinica degli americani, è una cosa che può creare business, cioè nel senso, qua poi porta i soldi, e quindi noi ti aiutiamo. Il primo anno io ebbi la fortuna, e veramente li ringrazierò fino a che avrò forza, di portare un cast stellare, io portai Battiato, Inegrita, Allevi, gli Africa United, gli After Hours, Linea 77, tantissimi gruppi. E questo diede, l'incognito era, boh, ci sarà gente, non ci sarà gente, insomma, e invece la gente ce n'era, siamo partiti con non tanta gente, poi ogni anno andando a crescere. Ma la cosa importante, che abbiamo anche scardinato un sistema, di solito quando si faceva il concerto degli italiani, ci andava, con tutto il rispetto, pace all'anima sua, Little Tony, e andavano magari le signore immigrate 40 anni, 50 anni fa, le signore con i bigodini, con i pantofoli, avevano dei Little Tony in lacrime e piangevano quando stavano in Italia. Ma in realtà il mio interesse era dare l'immagine dell'Italia attuale, non l'Italia di 40 anni fa. E quindi questo ci consentì di attirare gli americani, non gli italiani, tantissimi ragazzi, tantissimi, soprattutto universitari, che si avvicinarono con curiosità alla musica italiana. E questo diede inizio e vita a un volano che di anno in anno andò a crescere. Considerate che Heat Week negli Stati Uniti, a partito da Los Angeles, ogni anno ha raddoppiato le città. Abbiamo fatto prima Los Angeles, poi Los Angeles New York, poi Los Angeles New York e Miami, fino all'altro anno, adesso faccio la sintesi, abbiamo fatto cinque città, Los Angeles New York, Miami, Washington e Montreal. Poi è venuto quasi automatico, ma se siamo andati negli Stati Uniti potremmo provare da altre parti, intanto alla fine il sistema è quello. Che poi, come racconto, sembra semplice, ma è estremamente complesso tutto. Poi soprattutto ogni paese vuol dire che devi ricominciare da capo, leggi quel paese, capire le regole, molto complicato. Sì, sì, infatti sembra così. E quindi abbiamo provato, anche lì ci hanno dato dei folli, l'altro anno e siamo andati in Cina. Lì siamo rimasti, perché la gente, abbiamo portato, poi ve lo racconterà, che comunque dopo ci sarà anche lui, i subsonica e negrita in Cina e i cinesi sono impazziti. E quindi comunque è stato, allora, vabbè, però dopo la Cina potremmo andare anche in altra parte, siamo andati in Brasile. E quindi c'è assolutamente interesse, c'è assolutamente interesse per quello che è l'italianità, tra virgolette, moderna ed attuale. Quindi questo è per noi uno stimolo a crescere e a continuare. La cosa che non vi ho detto è che, per esempio, primo anno, ripeto, le istituzioni, diciamo, italiane erano molto dubbiose, no? Dal secondo anno, invece, devo dare atto che hanno sposato completamente e in maniera importante questo progetto. Noi abbiamo la fortuna di avere dietro tutto il sistema culturale italiano, diciamo, sotto la regia della Federazione Industria Musicale Italiana, che raggruppa, che controlla di fatto l'80% del mercato della musica in Italia, abbiamo dietro, oltre abbiamo il mistero sviluppo economico, il studio del commercio con l'estero, la regione Puglia, Puglia Sound e tantissimi enti e istituzioni che hanno capito che la musica può essere esportata al pari dei tondini in ferro, al pari delle macchine. Cioè, quindi, perché se io faccio una fiera per vendere i trattori in Arabia Saudita non posso fare una fiera per vendere la musica e o il cinema e o l'editoria e o la creatività italiana? Quindi, è stato difficile, abbiamo scartato un sistema, ma i passi e gli step, diciamo, c'è una prateria da conquistare, piano piano, andando avanti a piccoli passi, perché purtroppo ci muoviamo sì in un'ottica globale, ma proprio perché è un'ottica globale, un'ottica che è influenzata da crisi. Immaginate che, ne so, noi lavoriamo negli Stati Uniti, se noi facciamo il festival negli Stati Uniti portiamo fondamentalmente a ottobre circa 150-200 persone, tra artisti, tecnici, giornalisti. Immaginate quanto può influire su questo tipo di attività l'oscillazione delle valute. Quindi, è anche complicato, gli Stati Uniti hanno una regolamentazione molto rigida, per esempio, sui permessi di lavoro. I nostri musicisti, di fatto, vanno a lavorare, quindi dobbiamo fare tutta una serie di pratiche per i permessi di lavoro e così in ogni paese del mondo. Immaginate, cioè immaginate, la realtà, noi lo scorso anno siamo andati in Cina e in Cina, prima di riconoscerci qualsiasi tipo di visto, abbiamo dovuto sottoporre all'ufficio censura del Ministero della Cultura cinese tutti i testi degli artisti che portavamo. Per noi sembra una cosa assurda, però, quindi tutti i testi tradotti in cinese e loro ci hanno detto se o andavano bene o meno. Tant'è che io ho messo per opportunità, mi ricordo, c'era una canzone negrita, si chiama Libro in una mano, una bomba nell'altra, e ho detto, vabbè, leviamola, che sennò non ci fanno proprio entrare. Però, alla fine, insomma, ha funzionato e anche lì ci siamo resi conto dell'estremo interesse per la creatività italiana, perché noi non ce ne rendiamo minimamente conto stando, diciamo, all'interno del nostro territorio. Forse siamo più portati a lamentarci che a cercare di essere costruttivi. Però, insomma, sono piccole soddisfazioni, piano abbiamo. Un momento di dire, a riguardo della visibilità, diciamo, nella maggioranza dei casi si utilizzano adesso luoghi tipo SoundCloud, MySpace e tanti altri, no? Ecco, in questi casi qui, quando ci sono artisti che hanno già realizzato un CD, un disco, insomma, quindi hanno una copertura a livello di, diciamo, di SIA, queste cose qui. Per quelli che non hanno un CD depositato, quindi tutelato, insomma, per quanto riguarda diritti, eccetera, esporsi su luoghi tipo SoundCloud non può comportare dei rischi. Fondamentalmente, di base, tengo soltanto opportunità. Ormai, CD o meno, tu puoi depositare i tuoi brani, non sei obbligato a realizzare, tra virgolette, un'opera meccanica. Quindi, io quello che consiglierei a chiunque è di depositare le proprie opere. E poi, utilizzare, sfruttare il più ampio numero di piattaforme di possibilità per, tra virgolette, promuoverle. Il problema è questo. Cioè, questi grossi portali o contenitori di cui parli, che sono tutti fenomenali, hanno interesse ad avere il maggior numero di contenuti dentro. Ma il problema è un altro. Il problema è come fai tu a promuovere i tuoi contenuti. Quello è un altro mondo. Però, devo dire che qui, la fantasia, la creatività degli italiani è abbastanza importante. Purtroppo, entrare nell'ottica che bisogna essere imprenditori di se stessi, se uno vuole fare un percorso da solo. Io mi sento anche di sfatare un po' un luogo comune che è la demonizzazione delle case discografiche. Io, anzi, in un periodo del genere, cercherei di lavorare e camminare insieme con la casa discografica. Perché la casa discografica mi può supportare sull'aspetto, tra virgolette, promozionale. Non è semplice. Cioè, un conto va a Francesco per cercare di promuovere la mia band o il mio brano su MySpace. Un conto va alla Warner o l'Universal e c'è un altro peso, questo è ovvio. Quindi, secondo me, su questo tra l'altro è stata fatta una ricerca. In questa fase di mercato, dove veramente il mercato è stato stravolto, è cambiato completamente, gli artisti che riescono, di fatto, sono quelli che hanno dietro una discografica. Non è più, non credete, ah, internet ormai tutti hanno le stesse possibilità. Non è vero. Cioè, nel senso, proprio anzi, perché internet è talmente vasto, cioè, io come faccio a trovare il tuo brano su YouTube se tu non me lo promuovi? Cioè, tu lo puoi mettere, ma lì rimane. Quindi, c'è bisogno di un supporto sistematico e continuo di qualcuno che crede in quello che fa. Sì, crede, promuove. E quindi la discografica, anche in questa fase, secondo me, ha un ruolo strategico nella promozione degli artisti, soprattutto se esordienti. Infatti, il fenomeno che sta via via affermandosi, invece, è un altro. Gli artisti grossi, no? I super big dicono, io della discografica non c'ho più bisogno e, in qualche modo, cercano, iniziano a, si sganciano e cercano di distribuirsi da soli. Salvo poi prendere, come si dice, dalle mie parti le facciate al muro e dire, beh, sai, forse non è il mio lavoro, è meglio che ritorno all'ovile. Quindi, sai, oggi la dimensione e il mercato è talmente in evoluzione rapida che, se io metto a tavolino un piano strategico, probabilmente quando l'ho finito è già passato. Quindi bisogna cercare sempre di essere un po' visionari e anche, io lo dico sempre, rischiatevela, perché intanto, innanzitutto, si vive una volta sola. Poi, mi rendo conto che è molto complicato. Mi rendo conto per chi sono passato. Io, nel senso, quando ho deciso di fare di questo, la mia vita, soprattutto prendi tanti calci in faccia, però piano piano, piano piano, se tu credi in una cosa, alla fine hai la fortuna, perché poi ci sono tanti elementi che devono camminare insieme, no? Se riesci a realizzarla, poi c'è tutto un altro approccio alla vita, al lavoro. Ditemi. Il Brasile, scusate, abbiamo un po' d'acqua. Il Brasile, noi abbiamo portato guarda caso due artisti pugliesi, Eric Camus e la Municipale Balcanica. Economicamente, per noi, era un'operazione che a Taurino non aveva senso fare, perché in un periodo così difficile non riusciamo neanche a coprire i costi. Ho distrutto il microfono? No. Non riusciamo neanche a coprire i costi. Io ho detto, ma andiamo avanti lo stesso, perché credo moltissimo nello sviluppo dei paesi del Sud America. Il Brasile è il paese capofila dei cosiddetti BRIC, no? Brasile, India, Cina. E quindi abbiamo fatto questo tentativo che è andato estremamente bene e ben oltre le nostre aspettative. Siamo stati anche fortunati perché l'abbiamo fatto insieme all'università UERGI, che è l'università più grande di Rio de Janeiro. Quindi questo siamo andati a accogliere e colpire immediatamente il pubblico che ci interessava, quindi i studenti, che si sono approcciati alla nostra musica senza sapere niente. E questo è, diciamo, quello che ci interessa. Siamo riusciti a fare cose interessanti, soprattutto a seminare sia per gli artisti che abbiamo portato che per gli altri artisti e a incominciare a aprire una strada. Aprire una strada che vogliamo far crescere sia dal punto di vista di progetto sia dal punto di vista economico, perché alla fine io faccio l'imprenditore, quindi il mio fine, ahimè, è il profitto. Secondo me, ripeto, è molto onesto dirlo, piuttosto no, sì, mi interessa, io ci voglio guadagnare. E quindi in previsione dell'ulteriore sviluppo del Brasile, visti i mondiali, le Olimpiadi, a mio avviso era importante presidiarlo in quel momento, cioè partire prima e questo ci sta dando, comunque sta andando in questa direzione, visto che siamo stati rinvitati, abbiamo trovato altri soldi per farlo un po' più grande l'anno prossimo, quindi assolutamente è stata un'esperienza positiva. Io purtroppo ho avuto, sono stato quasi neanche 40 ore a Rio de Janeiro, però insomma è stato, dico, meglio che non andarci per niente, quindi è stata una bellissima esperienza. Poi considerate che quello che sta accadendo è anche un fenomeno particolare che magari dopo approfondiamo con gli altri. Il know-how è tutto quello che viene costruito a margine di Heat Week, il festival che facciamo in giro per il mondo, di fatto ci consente di poter portare qualsiasi artista, perché comunque il sistema è sempre quello, dobbiamo la promozione, tutta la parte logistica, l'organizzazione, i rapporti, i club, i teatri e questo ci ha aperto una linea di business che in pratica ci è stata aperta su istanza di altri, altri ci hanno chiesto, beh, ma visto che fate il festival, mi ha organizzato il tour pure a me? E questo ci ha portato a fare tour di artisti, cioè così, Baglioni, Antonacci, Battiato e tanti altri. Io ho fatto, ho avuto la fortuna, l'onore e l'onere di fare il 27 e il 28 maggio due concerti a New York di Biagi Antonacci e quando abbiamo deciso di fare, eravamo deciso insieme alla discografica qui in Italia, la Sony, che è la casa di Biagi Antonacci e insieme al produttore dei suoi concerti in Italia, che è Friends and Partner, abbiamo deciso di fare un tentativo e fare una data. Vi dico, io ero abbastanza scettico, nonostante che sono sempre un ottimista, dico boh, secondo me, e noi praticamente in cinque giorni abbiamo bruciato tutti i biglietti per il primo giorno, tant'è che io quando ho avuto il piacere di incontrare Biagi a Roma prima di andare, dico, sai, io ti dico la verità, io non me l'aspettavo, io pensavo che non eri neanche in grado di riempire una giornata a New York e lui mi ha detto, mi piace il tuo approccio perché non mi dici le cose finte, dico, che ti devo dire? E questo, considerate che poi noi abbiamo fatto due giorni completamente esauriti, ne potevamo aggiungere un altro, quindi è stato un esperimento andato bene, ben oltre le previsioni e soprattutto anche lì andiamo a rilevare che le presenze non sono più gli italiani, sì, ovvio c'è una componente, ma incomincia ad esserci un pubblico di americani che è interessato alla musica italiana di sistema e questo è positivo. L'altra grossa fortuna, e questo è veramente cambia, diciamo, la storia delle situazioni, è che prima qualsiasi tentativo io facessi di portare la musica italiana in giro per il mondo, c'era un limite fisico, che era la distribuzione. Io potevo portare la musica italiana dappertutto, ma poi c'era il limite della distribuzione del prodotto fisico, perché se io volevo trovare il cd di Eric Camus, di Antonacci o di Battiato, i negozi fisici non ce l'avevano. Adesso con l'avvento del digitale, tutte le piattaforme hanno tutti gli artisti italiani, quindi adesso il problema è solo uno, di promozione, di comunicazione, cioè noi dobbiamo far scoprire al pubblico dei singoli paesi dove andiamo che può ascoltare sulle varie piattaforme, che può essere iTunes, che può essere Spotify, Deezer, quello che è, la musica italiana. E quindi cominciamo ad andare verso un'ulteriore direzione che è lo sviluppo permanente del sistema musicale italiano, questo insomma, nei nostri piani strategici c'è anche questo, di cercare di creare un'antenna permanente di promozione di tutta la musica italiana nel mondo e all'estero. Ovviamente inizieremo per gradi, ma magari dagli Stati Uniti, muovendoci, e a quel punto It Week diventa la vetrina annuale, ma c'è un lavoro continuo tutto l'anno di promozione, perché il mercato fisico è finito, ma si è aperto un mondo. C'è il digitale, ci sono le sincronizzazioni, c'è di tutto, il live, di tutto e di più. Cioè noi, per esempio, abbiamo portato nel 2010 all'interno del nostro festival Ludovico Enaudi, Enaudi, anche lì io non mi prendo mai merito, non so se grazie a noi, per fortuna, coincidenze, quello che è, ha firmato due contratti per fare sincronizzazioni di due film della Warner, quindi insomma, cose importanti, e sono tre anni che gira gli Stati Uniti con concerti da 1.500-2.000 persone che pagano fior di quattrini per vedere Ludovico Enaudi, che sono nel pianoforte. Quindi questo è un po' il segno delle cose che cerchiamo di fare. Cioè Municipale Balcanica, l'abbiamo portata a Rio de Janeiro, sono impazziti, gli hanno fatto 3.000 proposte per ritornare, per fare. Quindi, ripeto, ve lo dico a voi, ve lo dico alle persone che stanno a casa, entrate nell'ottica del mondo, l'Italia, perché non basta, se no, cioè, alla fine, quello che si poteva fare prima solo in Italia, adesso si può fare, però in tutto il mondo, quindi è un po' più faticoso. Chi non ha voglia di, chi ha paura dell'aereo è meglio che cambia mestiere, insomma, quindi pensate che tanti artisti italiani, questo non c'entra niente, non hanno sfondato all'estero, proprio per questo, hanno paura di viaggiare, ma proprio per paura fisica, cioè, invece, cioè, musicisti, non so, io ieri ho visto Ramazzotti, come Ramazzotti, la Pausini, e quelli veramente con la valigetta, quando erano piccoli, incominciano ad andare in giro, dovunque, perché piano piano inizi a far girare quello che fai, cioè, e ripeto, non è un problema di lingua, poi è chiaro, cerchi sempre di strizzare l'occhio al mercato dove vai, no, al Sud America, allora faccio i pezzi in spagnolo, quello che è, insomma, questo è quanto. C'è altre domande? Come funziona da casa? La gente scrive, fa le domande? No, vado avanti da solo, ok. Ditemi, ma noi adesso siamo, tra l'altro ritorniamo al tema, forse il tema principale, stiamo, abbiamo fatto il percorso inverso, abbiamo cominciato a fare gli spettacoli all'estero e poi ho detto, beh, ma facciamoli pure in Italia. Sono due anni che organizziamo un festival che devo dire che anche lì è andato ben oltre le nostre aspettative, un festival estivo che, guarda caso, si chiama It Week Summer Festival, dove lo scorso anno abbiamo fatto Brignano, Emma, Mannarino, Negrita, tantissimi altri. Perché qual è l'app il nostro? Questo è ovvio. L'app il nostro è dire, venite a suonare il nostro festival perché noi poi vi facciamo suonare pure in giro per il mondo. Quindi, tra virgolette, non dico che è una moneta di scambio, però sicuramente noi facciamo leva su questo. Perché un artista fa comodo andare a suonare all'estero e da solo è praticamente impossibile. Perché devi fare sistema? Perché, ripeto, forse sono cinque gli artisti che possono reggere da soli oggi come oggi uno spettacolo all'estero, cioè molto pochi. Gli altri hanno bisogno di fare sistema in un'iniziativa organizzata e messa appunto a sistema e soprattutto anche dal punto di vista finanziario e economico perché a meno che uno dice, sai, ti dico, io metto 100.000 euro per organizzare i miei spettacoli, però non è facile. Quindi, e guarda caso, tra virgolette, ma questo lo sanno anche loro, noi sfruttiamo gli artisti importanti per dare visibilità a quelli esordienti. Cioè, se io porto i Subsonica negli Stati Uniti, inevitabilmente hanno una grossissima visibilità in Italia, perché comunque c'è visibilità al fatto che un artista di Stati Uniti abbassa suona negli Stati Uniti, e dà visibilità di riscontro anche ai gruppi esordienti che hanno vinto i nostri contest, perché prima di Subsonica hanno suonato i follow the mad, piuttosto che i serpenti o quello che è. Quindi, e questo secondo me è un sistema mutualistico interessante, dove ognuno aiuta l'altro. È una cosa che sta funzionando. Vi faccio un esempio. Adesso sono gli assisti artisti grandi che ci aiutano a promuovere il contest per gli artisti esordienti, perché è un mondo che ha bisogno di comunicare. It Week è diventato anche una sorta di punto d'incontro. Cioè, abbiamo portato un anno Subsonica a Eric Amu, guarda caso, l'ultimo disco di Eric Amu è stato prodotto da Busta, che è il tastista di Subsonica. Quindi è fondamentale aprirsi, è fondamentale mettersi continuamente in gioco da questo punto di vista. Il discorso degli spettacoli in Italia e anche quelli nel senso della globalizzazione sono fondamentalmente in mano a grossi e pochi operatori. Le economie sono molto difficili, quindi bisogna muovere in maniera sistematica. Ormai con il biglietto dello spettacolo è difficile, riesci addirittura ad andare pari. Quindi hai bisogno di trovare risorse. La fortuna è che la musica è fondamentalmente un sistema che arriva velocemente al consumatore. Quindi tante aziende sfruttano la musica per arrivare a un target. Guardate l'esempio delle compagnie telefoniche. Usano tutte la musica perché arrivi velocemente al target che ti interessa colpire. Questo che è un sistema diffuso in tutto il mondo in Italia era un po' più lento e adesso è cominciato anche a prendere piedi in Italia. Sponsorizzazioni costruttive appunto legate alla musica, all'evento. Grosse compagnie vedi Enel che si organizzano. Per esempio il tour di giovanotti è sponsorizzato da Enel. Prima era molto forte pure Edison su questa roba, sulla musica, su anche l'energia rinnovabile. Quindi ci sono tante iniziative. Le telefoniche da sempre l'hanno fatto. Faccio esempio Poste Pay, le poste sono avvicinate, sponsorizzano un festival a Roma. È molto difficile perché alla fine immaginate quanti fattori devi far girare insieme. Per esempio noi lo scorso anno abbiamo organizzato in parte il tour di Brignano e abbiamo trovato la ID Sole che sono delle creme solari che hanno costruito un'iniziativa molto interessante. In pratica in ogni tappa se tu andavi a comprarti una crema ID e vedevi sul tuo applicativo dove stava la macchina ID in quella città dove si esibiva a Brignano, avevi i biglietti gratuiti. Quindi è funzionato. Dentro l'arena in ogni città abbiamo costruito una zona ID dove le persone potranno farsi test della pelle, provare le creme solari. Quindi è chiaro l'abbinamento tra artista e brand funziona perché comunque ti consente di arrivare velocemente a grosse masse. Altrimenti sarebbe difficile. Ci avete altre domande? Facciamo una pausa?